A posto Gino Berg in Italia, è in topi quel che è mine e in pochi quel che non è. E andiamo subito a parlare con la compagnia Jarcha Platt, che già il nome è tutto un programma. Un programma, sì. Vabbè, questa è una compagnia di ragazzi giovani, anche se ce n'è qualcuno un po' più grandino, però la maggior parte sono tutti ragazzi da 16 ai 18 anni. Questa è la nostra terza esperienza e noi di solito facciamo la nostra attività nell'ambito parocchiale di San Sebastiano a Bellocchi. Questa è la terza, praticamente, commedia in dialetto fonese e anche quest'anno ci hanno invitato qui a Tre Punti. Allora, quando andrete in scena? Allora, noi andremo in scena il venerdì 14 luglio alle 21.15, 21.00, quando fa noti, insomma, ecco. Con lo spettacolo? La commedia si chiama Chi è l'ultimo? È una commedia di Gabriele Morbidi, è un pesarese, e quindi avrete la possibilità di vedere una commedia in dialetto pesarese, nata in dialetto pesarese, però fatta in dialetto fanese, se no non ci capite niente. è un peso pesare di tutto! È un peso pesare! È un peso pesare! È un peso pesare! Grazie a tutti.